Parliamo di volley adesso, ieri domenica storica per la Pallavolo Umbra, il San Giustino si è salvato con una giornata d'anticipo, rimane dunque in Serie 1 maschile. Nello stesso campionato approda la Sircefti Perugia, promossa nella massima serie dove la città torna dopo due anni di assenza. Con noi c'è il presidente della società, Gino Sirci, grazie per essere qui. Allora, un'emozione ieri a Corigliano Calabro. Sì, una grande emozione perché abbiamo coronato con la matematica un sogno che si stava materializzando ormai da qualche mese. Avevamo visto che la squadra che avevamo pianificato all'inizio dell'anno, quindi a settembre, agosto, facciamo campagna acquisti, diciamo di giugno, agosto, stava crescendo. Quindi stava crescendo, stava acquisendo più coesione e stava migliorando. Quindi finché poi abbiamo visto che è passata in testa la classifica, a parte la paura che avevamo poi di non poter rimanerci, poi invece ci è passato in tutto e siamo riusciti a prevalere. Ecco, con una giornata di anticipo e con cinque punti sulla seconda. Un anno da record, ha detto anche l'allenatore Covace. Ecco, se lei dovesse dire un segreto di questo successo? Il segreto, il successo intanto non viene, diciamo, per caso. Quindi ci sono tante, diciamo, con caos, dalla società, dallo staff tecnico, dai giocatori, a quello che è il clima, la coesione. Però una cosa che mi piace appunto sottolineare è che il successo è venuto da una cosa che serve e quindi determina poi le carriere di tutte le persone, anche nella vita normale. Cioè, che cosa? La costanza. Quindi la costanza che noi abbiamo impresso, diciamo, nella nostra linea di marcia ci ha permesso appunto di creare quella matematica, quel numero di vittorie più grandi, più alto di tutte le altre. La prima volta di due squadre Umbra in a uno maschile, come vi preparate al derby che ci sarà col San Giustino? Beh, il derby ancora è presto, ancora deve uscire il campionato, deve uscire il calendario. Ma siamo molto felici, perché appunto ieri abbiamo saputo, diciamo, di questa storia, appunto, che loro ci sono salvati, perché avevamo creato, diciamo, si erano un po' fatti male da soli e abbiamo visto che in effetti questa grande, se vogliamo dire, notizia, il fatto, diciamo, che sono rimasti anche loro in a uno ci permetterà di avere una cassa di disonanza maggiore, perché, diciamo, la pallavolo Umbra, che è, diciamo, una piccola regione, che si comporrà, appunto, di due squadre di a uno, è, diciamo, un record, è qualcosa, diciamo, che neanche le regioni maggiori hanno. Quindi questo è un evento che significa che l'Umbria, diciamo, che la pallavolo in Umbria, quindi, è stata pianificata, diciamo, si è radicata, quindi non è una cosa per caso, è una cosa pianificata e quindi sicuramente... C'è stato un impegno di tutti, insomma. Un impegno di tutti, quindi, diciamo, c'è, diciamo, una... non è venuta così, è venuta appunto per il volere, diciamo, la volontà, diciamo, di tante, tante signate. La ringrazio, la ringrazio molto, buon lavoro e in bocca a lui.